Ogni tanto anche in Capitanata arriva l'ora di mettere il punto non solo su infrastrutture, trasporti e logistica mortificanti per livello di sviluppo e di risorse, ma niente meno che in materia di cultura. E a ben vedere dopo decenni di buio in una terra che soffre l'assenza di una classe dirigente con la D maiuscola, qualcuno rivendica finalmente con i fatti identità, curiosità e dignità appunto tutta culturale e ci riesce. Applausi scroscianti arrivano per due realtà che in provincia hanno visto premiata la perseveranza e l'entusiasmo per la lettura. A Cerignola la fiera del libro, dell'editoria e del giornalismo con i numeri lusinghieri del recente bilancio dell'ottava edizione nata dall'intuizione di cinque fondatori. Grazie al contagio della loro passione per la lettura è finalmente nata una libreria che mancava, mentre a Lucera una cremeria letteraria a pochi metri dalla cattedrale ospita da tre anni le migliori penne del panorama letterario e giornalistico della nazione. Un anno fa a coronare i successi di questi eventi settimanali è arrivato dalla regione anche il riconoscimento ufficiale di presidio del libro, il secondo sui quattro dell'intera provincia. Rimarrebbe insomma tutta da discutere, solo la careltra pubblico e privato, tra chi promette e chi realizza senza troppe parole. E i riflettori non possono che puntarsi allora sulla questione magna capitana. La biblioteca ex provinciale in occasione di recenti terremoti provocati dalla legge sulle province ha perso la direzione di un eccellente, Franco Mercurio, che ora è al vertice della nazionale di Napoli e continua a non decollare per l'efficienza di servizi che dovrebbero raggiungere il livello d'eccellenza che una sede gloriosa per dotazione e storia nell'intero mezzogiorno dovrebbe meritare. Ma non c'è dubbio e non possiamo non ricordarlo che in questo caso le parole non sono state parole di fumo. La promessa fatta dal governatore Emiliano e trasmessa da Raffaele Piemontesi ai suoi concittadini fu mantenuta. A fronte di temute chiusure e mortificanti trasferimenti di personale, i dipendenti sono rimasti al loro posto e sono in 57. Ora si attende solo alla valorizzazione di una meraviglia culturale che è servizio pubblico a disposizione dell'Italia intera.